Grazie a tutti per essere venuti, questo è il terzo incontro del secondo ciclo di seminari, giusto? Fantastico. E parleremo di sfruttamento animale e crisi del capitale, ovviamente come al solito ho dei titoli che non si capiscono perché poi li devo spiegare, quindi l'intervento consiste nella spiegazione del titolo. Questa immagine non è da lì, ve lo dico subito anche se sembra, è una pubblicità se non ricordo male di una assicurazione, però mi sembrava che rendesse bene una qualche idea, non so quale, ma la rende bene. Cominciamo con il primo termine, la parola crisi che ci occupa questa sera. Crisi è un termine che ha dentro di sé una duplice valenza, indica la rottura di un equilibrio e però al tempo stesso l'apertura di una possibilità. Crisi deriva appunto dal termine separare in greco e inevitabilmente dà l'idea di un momento di passaggio, c'è la crisi di una malattia per esempio, che è il momento in cui si decide della guarigione o eventualmente della morte di una persona che sta male. Mi piaceva affrontare il termine crisi, focalizzare un attimo il termine crisi, perché nel capitalismo la crisi ha un significato particolare, come chi conosce un pochino Marx sa, la crisi è un elemento strutturale del capitalismo. Cosa vuol dire che la crisi è un elemento strutturale del capitalismo? Cosa vuol dire che il capitalismo per sua essenza va in crisi e questa crisi che si aspetta sempre essere l'ultima, non è mai l'ultima. Per quale motivo c'è questa ricorrenza della crisi e perché ci aspettiamo qualcosa dalla crisi del capitalismo? In quanto seminario ecosocialista questa cosa ci interessa in particolar modo perché uno degli aspetti che noi sottolineiamo talvolta della crisi è che la crisi ecologica sembra essere una crisi irreversibile e quasi un muro verso il quale il capitalismo si stia schiantando. Tuttavia anche questo concetto è problematico, va analizzato e compreso. In che senso la crisi ecologica potrebbe essere l'ultima crisi del capitalismo? Se lo è, ne parleremo, cerchiamo anche di discuterne di questo. La cosa che mi interessava è che il concetto di crisi attraversa il capitalismo è un po' come la muta del serpente, cioè il capitalismo entra in crisi perché per sua natura, per sua essenza si ristruttura attorno a delle contraddizioni che ha. Ecco perché la crisi è endemica, è interna al capitalismo e non è un fattore esterno. Quindi cambia pelle il capitalismo, si riorganizza ogni volta. Se questo è vero e se questa è anche la matrice del suo progresso, perché il capitalismo produce un progresso, ha prodotto un progresso, per quanto discutibile possa essere e problematico possa essere questo progresso, è difficile dire che negli ultimi 200 anni la parola progresso non si debba usare. In qualche modo che ci sia stata un'acquisizione per l'umanità di strumenti o di beni o di bisogni, si diceva l'altra volta, è una questione anche qui da discutere, ma negare totalmente che il capitalismo abbia prodotto diciamola così in maniera rozza, anche del buono, è difficile, a meno che uno non sia un fanatico dell'ancien regime e amasse l'oppressione della chiesa e l'oppressione della nobiltà, diciamo che, o il fedeolesimo, gli spingitori di cavalieri, quelli che amano gli spingitori di cavalieri e per carità ci stanno, perché poi ci stanno, ne parleremo di quelli che dicono la risposta al capitalismo è tornare indietro, no? Allora, quindi questa cosa va focalizzata, il cambiamento della pelle del serpente, del capitale è qualcosa che porta con sé anche un elemento di progresso, quello che noi chiamiamo il lato progressivo del capitale, l'aspetto appunto per cui il capitale produce qualcosa di nuovo con cui ci dobbiamo confrontare. Che cos'è questo nuovo? Per ridurlo all'osso è quello che Marx chiamava la socializzazione della produzione, cioè il capitalismo produce un livello di tecnologia, un livello di cooperazione nella produttività dei beni, che è qualcosa evidentemente di nuovo nella storia, qualcosa che innova non tanto da un punto di vista solo degli strumenti che si producono o dei beni specifici che si producono, ma nella forma del modo in cui si produce, cioè il fatto che si produce attraverso una interrelazione, un aumento dei rapporti tra gli umani, quindi una complessificazione sociale a cui corrisponde uno sviluppo tecnologico avanzato e questo chiaramente è qualcosa che cambia la società, nel senso che ci porta fuori da quello che era l'orizzonte premoderno e inaugura l'idea che la società possa organizzarsi da sola, possa organizzarsi in base a un principio di auto-organizzazione in cui i singoli, gli individui, contribuiscono in quanto individui, quindi che la socializzazione sia un rapporto tra individui e che quindi ci sia questa intensificazione degli scambi e dei rapporti tra gli individui a cui si accompagna appunto uno sviluppo tecnologico. Allora, a questo elemento progressivo, diciamo, le risposte che io ritengo insufficienti, ma possiamo discuterne ovviamente, sono chiaramente l'idea che, ah ma quando ci stava bene prima nelle vecchie comunità tradizionali, comunitarismo per cui, ah il capitalismo ha prodotto l'atomizzazione sociale, quanto era bello quando invece io potevo picchiare mia moglie in casa e nessuno mi diceva niente, cosa che faccio ancora tra l'altro. Il primitivismo non ne parliamo neanche, l'altra volta appunto ci hanno obiettato a me e a Barbara che il problema sono i cellulari e che quindi, eh, se dobbiamo fare rivoluzione, prima cosa via i cellulari. Al che lei dice sì, ma io magari volevo pure sentire l'amico mio che stava in Francia, no, non lo puoi sentire o ci vai a piedi? Perché aboliamo anche i mezzi di trasporto, esatto, no, diciamo anche qui problematico. Altrettanto problematico, anche se più difficile da focalizzare, è l'idea che il problema del capitalismo sia la mercificazione e poi altri concetti un po' più strani, un po' più astratti, difficili da definire come l'alienazione o l'estraneazione, che sono tutte parole, tra l'altro un gergo anche geliano, però usate in un modo che non a caso il buon Marx sottopose a critica, cioè la mercificazione, come dire, che cos'è? Parliamone. La mercificazione è, adesso dico due banalità, due parole veloci e su questo anche possiamo tornare, il fatto che la produzione di beni nel capitalismo assuma la forma della merce, è l'elemento, come dire, ineliminabile del fatto che la produzione abbia quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, cioè che sia il prodotto di una intensificazione della cooperazione e che il mercato funga da elemento di mediazione tra gli individui. E questo elemento è progressivo? Bisogna vedere qual è l'alternativa precedente, l'alternativa precedente era appunto la società feudale e l'ancien regime, quindi è chiaro che questo avendo rotto quei legami tradizionali, quei legami comunitari nel senso appunto repressivo e reazionale del termine, ha prodotto qualcosa di nuovo, cioè che la possibilità di incontrarsi in quanto individui in una zona neutrale che ovviamente è dominata dal capitale, ma questo è la definizione stessa della situazione in cui ci troviamo. Il problema è se questo elemento è un elemento che rompendo un legame tradizionale e appunto mistificato possa aprire qualcosa di nuovo o no. Tutto il dibattito sul lato progressivo del capitale sta qua, se il capitalismo serve o è mai servito a qualcosa. E la stessa cosa è il termine alienazione, estraneazione, alienazione rispetto a che cosa? In che cosa il fatto di essere strappati al grembo accogliente ma anche soffocante delle società tradizionali è una forma di alienazione o di estraneazione e qua io faccio una citazione difficile che però mi piace tanto, del Adorno, il quale dice, la leggo e poi cerco di interpretarla, chi considera il cosale, cioè la natura di cosa, la natura reificata, come irradicalmente cattivo, chi vorrebbe dinamizzare tutto l'ente trasformandolo in pura attualità è tendenzialmente ostile all'altro, all'estraneo, il cui nome non per caso risuona nella parola estraneazione. Estraneazione vuol dire che io mi perdo in altro. Allora qual è il giochino che fa chi riduce il capitalismo a una critica, critica il capitalismo dal punto di vista dell'alienazione e dell'estraneazione? È che esisterebbe una modalità pura, vera, buona di essere umano e di essere in relazione e di essere in relazione con sé e con le cose e con gli altri, rispetto alla quale il capitalismo produrrebbe una distorsione radicale. Qual è questo rapporto buono-puro che si è dato prima del capitale con le cose, con gli altri? Dove sta? Questa è la questione, no? Dice sì, però il lavoro è oggettivato. Sì, e quindi? Quindi l'artigiano invece è figo, l'artigiano è meglio, perché l'artigiano produce solo per sé, produce il minimo indispensabile, quindi il lavoro dell'artigiano è un lavoro di qualità, mentre il lavoro prodotto dalla macchina è una cosa alienante, perché il rapporto con la macchina è un rapporto alienante. Allora, la questione è, dove sta questa esperienza intensa, ecco questo è il termine giusto, cioè un'intensità rispetto al quale il capitalismo sarebbe pura quantificazione, pura meccanizzazione, come se prima ci fosse appunto una sorta di originaria autonomia dell'essere umano, che in realtà, come dice Adorno in questa citazione, il fatto di pensare che perdersi nell'altro sia qualcosa di negativo significa appunto che tu hai paura dell'altro. Ora l'altro non è soltanto l'altro essere umano o l'altro animale, come vedremo, ma è anche il fatto di costruire delle relazioni in cui non sono io il dominus, non sono io quello che controlla, quello che ha in qualche modo il potere, per cui le relazioni sono qualcosa che dipendono da me, il perdersi nelle relazioni, il perdersi in strutture sociali che non sono esattamente il prodotto della mia volontà, è una cosa necessariamente negativa? Boh, vediamo, ne parliamo, era solo una provocazione. Allora, qual è il limite della critica classica che il marxismo fa a queste concezioni, comunitarismo, primitivismo, critica del capitalismo come mercificazione? Che non basta prendere possesso della macchina statale e industriale e cambiarle padrone, questa è la mia posizione che cercherò di difendere. Cito Zizek, che dice tante cose strane, tante cose non condivisibili, ma questa mi sembra condivisibile, il modo di liberarci dei nostri padroni non sta nel far diventare il genere umano stesso il padrone collettivo della natura, ma nel riconoscere l'impostura nella nozione stessa di padrone. Quindi abbiamo prodotto una macchina, il capitalismo, la modernità ha prodotto una macchina statale e industriale che si tratta di non smantellare ovviamente come tale, non cancellare per ritornare appunto al magnifico mondo dell'anziano regime, tutti con la livrea e in ginocchio davanti al Papa, bensì, bensì, che questa macchina funzioni in un modo diverso, in un modo appunto per cui non basta cambiare il padrone, quindi è ovvio che anche la macchina cambia, anche il modo in cui si organizza la macchina, dei rapporti politici e dei rapporti produttivi cambia, questo sì. Il limite probabilmente del marxismo tradizionale, chiamiamolo così, che poi non era veramente marxista, è stata l'illusione che il capitalismo è progressivo perché produce una macchina dello Stato e una macchina industriale e io me ne in possesso e allora cambia tutto. Questo è il limite di quella concezione. Come va pensato quindi una riorganizzazione della macchina in modo che abbia una funzione diversa? Allora qui bisogna riaffrontare il problema di che cos'è il limite del capitale. La crisi del capitale segna un limite del capitale, un limite che anzitutto è un limite interno, cioè le famose crisi di sovrapposizione, quella dinamica di finanziarizzazione dell'economia per cui il capitalismo producendo valore attraverso la semplice circolazione del denaro si sgancia completamente dai rapporti di produzione materiali e si lancia in una dimensione appunto astratta, eterea, che ahimè è molto materiale perché incide sulla vita e sull'esistenza di ognuno di noi, questa è quella che Marx riconosceva come una contraddizione interna del capitalismo e quindi una sua irrazionalità interna, cioè il capitalismo è irrazionale, il modo di evoluzione capitalistica è irrazionale perché ha dentro questa crisi costante che ritorna. Questo è un limite suo che tuttavia appunto è anche il fattore che ogni volta lo fa riorganizzare, quindi questa crisi interna, questo limite interno, questa irrazionalità interna arriva a far esplodere il capitalismo, problema, non è così scontato. Forse che, dicevamo all'inizio, c'è un limite esterno al capitale invece, un limite che questo modo di produzione incontra nel suo sviluppo, nella sua espansione? Esistono dei limiti naturali allo sviluppo? Questo nel dibattito marxista è il contrasto classico tra le posizioni di Marx e quelle di Malthus, cioè di Marx che dice che il capitale comunque si riorganizza sempre, il capitale non conosce dei limiti, non sono così evidenti i limiti naturali del capitale nella sua capacità espansiva, ha delle potenzialità che vanno oltre quello che noi ci possiamo immaginare adesso, mentre Malthus come sappiamo classicamente diceva che no, ci sono proprio dei limiti che non sono insuperabili e quindi inevitabilmente questa crisi ha un suo confine naturale, che è quello che poi oggi, o comunque fino a qualche anno fa, poteva essere la contraddizione tra il produttivismo, la concezione socialista-produttivista, per cui il socialismo è tale perché comunque insegue il capitale nella sua dinamica espansiva e produttiva e invece l'ideologia decrescente, della decrescita, per cui c'è in realtà un limite che dobbiamo considerare e quindi dobbiamo fare in modo che questo meccanismo di produzione si riassorba, riassorba la dimensione della quantità dei suoi bisogni, la dimensione della quantità dei suoi scambi, la dimensione della quantità delle sue relazioni sociali, è un primitivismo a rallentatore, che va indietro molto più lentamente, ma ci va. Esatto, è un primitivismo progressista. Allora, qui però, mentre rispetto alla crisi interna del capitale, cioè che c'è un'irrazionalità nel modo di produzione, perché appunto la dinamica iperproduttiva produce la sovrapproduzione, la dinamica di finanziarizzazione produce lo scollamento tra la circolazione del denaro e la produzione materiale, è in effetti una irrazionalità interna del capitalismo, anche se non determina di per sé la crisi definitiva, però questo Marx l'aveva visto bene, c'è un contrasto tra i limiti naturali e lo sviluppo industriale illimitato, cioè questo è anche una forma di irrazionalità del capitalismo e è anche una contraddizione del capitalismo, perché noi ce lo diciamo anche noi spesso e per semplificare le cose è chiaro che se io penso a un mondo con delle risorse limitate e a un meccanismo di sviluppo illimitato, è ovvio che c'è qualcosa che non torna, questo ce lo diciamo sempre e non nego che sia così, però anche questo non va semplificato perché altrimenti le risposte sbagliate, che io reputo sbagliate, poi ne possiamo parlare, che abbiamo visto prima sono dietro l'angolo, perché se il limite sta nel capitale, sta appunto nel fatto che le risorse sono limitate, allora potremmo pensare che il modo in cui dobbiamo organizzare la vita collettivamente e socialmente ci è dettato dall'esterno, quindi su questo dobbiamo riflettere. Allora io dico, c'è una contraddizione tra il limite naturale delle risorse e lo sviluppo industriale illimitato? No, non necessariamente, è quella che io appunto chiamo l'apocalissa rallentatore, cioè il capitalismo, il modo di produzione capitalista si riorganizza e se noi stiamo male se ne fotte, mettiamola così, cioè è proprio un suo principio gardine, etico non scritto, ma è così, che la stragrande maggioranza della popolazione sta male e sta male non, mi sento malino, more de fame, non gliene frega niente, questo è proprio un criterio assoluto che dobbiamo scrivere lì e tenercelo ben presente. Bene, noi questa apocalisse a rallentatore, da un punto di vista interno sociale, già la stiamo vivendo da tempo e sempre in maniera più acuta, scrivono Marx e Engel nel manifesto, il capitalismo è quel tipo di società in cui tutto ciò che è solito si risolve nell'aria, frase famigerata. Cosa significa? Tutti quei legami tradizionali che sembravano appunto eterni, irreversibili, solidi, vengono spezzati uno dopo l'altro, inesorabilmente e appunto l'individuo buttato sul mercato del lavoro, privo di qualsiasi protezione. Bene, oggi questa roba qui, Bauman ce la descriveva come la società liquida, cos'è la società liquida? Che questo meccanismo di dissoluzione dei legami, a partire dal dopoguerra, aveva trovato una sua forma di composizione, nel senso che una sua forma di bilanciamento degli interessi del capitale e del lavoro e il lavoro per cui si cercava di costruire forme stabili di coesistenza e di produzione in cui questi interessi contrastanti potevano giocare la loro partita. Nel momento in cui il capitalismo invece si trova campo libero, col crollo del socialismo reale, eccetera, non ha più bisogno di questo gioco di sponda e quindi quel meccanismo di dissolvimento dei rapporti diventa esponenziale e diventa proprio la completa, il fatto che a tutti i livelli, dalle mie relazioni con gli amici, ai miei rapporti di lavoro, i trasporti, tutto viene in qualche modo decostruito e riorganizzato in maniera agile, veloce, perché possa essere in qualche modo, ci si possa fare un profitto in maniera sempre più accelerata e della qualità della vita, che era invece il principio gardine in cui si organizzava la società fordista, la società in cui c'era questo equilibrio, questo compromesso per il capitale del lavoro, chi se ne frega? La qualità della vita non è più un problema, è chiaro, i pochi che possono permetterselo hanno, vivono nelle villette isolate da recinzioni, tutti gli altri nella grande banlieue dell'umanità disperata, io posso andare in giro con il mio meccanismo, con la mia macchina gigantesca, il mio SUV enorme che mi protegge e lì dentro mi sento al sicuro della sicurezza degli altri, me ne fotto, questa è fondamentalmente l'apocalisse, il fatto che noi viviamo in una situazione in cui fino a pochi anni fa non avremmo mai pensato di accettare dei livelli di compromesso con la miseria, con la povertà e con l'oppressione come stiamo accettando oggi. Quanto ancora dobbiamo aspettare per dire che questo è la fine del mondo, ovviamente in senso metaforico, ma anche no, perché non esiste la fine del mondo, quando è che il capitalismo dirà beh adesso siete così sfruttati, state così male che è peggio di così, no, quando è che, no? Ancora viviamo l'onda lunga di una serie di conquiste che avevamo da un punto di vista sociale, di diritti e quindi ancora teniamo, almeno in occidente, in alcuni paesi dell'occidente, ma perché dobbiamo pensare che in questo c'è un limite che non possa peggiorare ancora e sempre più e verso livelli che neanche ci immaginiamo. Capite perché dico l'apocalisse è il ralentatore? Già c'è, l'apocalisse è già iniziata, la stiamo vivendo passo dopo passo, pezzo dopo pezzo e la accettiamo perché è passo dopo passo, pezzo dopo pezzo. Ok? E poi ci dovrebbe essere questa apocalisse esterna, ecologica, questo proprio cataclisma che ci dovrebbe dire beh però peggio di così e anche qui. Perché? Perché dovremmo pensare che a un certo punto la natura ci dica beh basta. E qui mi rilaccio a quello che Sara e Marco dicevano la prossima volta, è i bisogni che definiscono la qualità della nostra vita sono plastici, si adattano, quindi si contraggono e si espandono e chi vive in una forma di esistenza che gli detta qual è la natura media dei suoi bisogni, si adatta. E come tuttora, in questo momento, nelle zone, non dico le zone di guerra, ma anche nelle zone non di guerra, dove si vive in maniera che noi consideriamo disumana, si vive e si sorride anche. Perché noi no? Perché l'Occidente no? Non dovrebbe pensare che possa il capitalismo per riorganizzarsi intorno alle sue crisi un domani farci vivere in condizioni che pensavamo che fossero oramai sorpassate, almeno per noi. Non c'è una misura oggettiva del bisogno e qui faccio un'ipotesi che sta tra due opposti che sono entrambi sbagliati, cioè che il bisogno sia definito dalla natura e che sia definito in termini interamente sociali. Quindi il naturalismo e il costruttismo sono due forme opposte per semplificare il problema di come si determinano i bisogni su cui voi infatti l'altra volta avete detto cose che l'aspetto biologico, l'aspetto materiale ha una sua centralità, l'aspetto sociale, l'aspetto costruttivo se vogliamo ha anche una sua centralità, senza queste due prospettive il bisogno si dissolve, non esiste, non è pensabile. Ahimè invece, da un lato la critica al capitalismo che va in direzione del primitivismo pensa che i bisogni siano definibili naturalmente, per cui tutto ciò che è prodotto della tecnica, dell'ecologia, della modernità in realtà, ecco, questo qui è semplicemente un falso bisogno, quindi io lo cancello e quello che rimane è la natura e benissimo. Il problema è la natura fagocita la tecnica, fagocita la tecnologia, la capacità dell'uomo attraverso la produzione strumentale anche di modificare il suo modo di percepire se stesso e le cose e quindi di avere bisogni che sono esattamente legittimi come quelli presunti di chi vive nella natura che non è mai esistito. Dall'altro lato anche il costruttivismo integrale, il postumanismo in cui non esiste misura, va bene così, il capitalismo produce, produce, produce una serie di bisogni nuovi e questi sono interamente legittimi. Anche qui l'altra volta Marco ci faceva vedere come nella produzione dei bisogni c'è comunque un interesse dietro che rende problematico il dire che questi bisogni sono tutti integralmente legittimi da un punto di vista di una società che si vuole libera, quindi autonoma, autorganizzata, in cui non viga lo sfruttamento. Tra questi ci metto anche il buon negri per cui noi vinciamo sempre, siccome il capitale reagisce al lavoro, ogni innovazione del capitale è comunque una cosa che abbiamo prodotto noi, quindi siamo sempre sulla cresta dell'onda, vinciamo noi. Allora si tratta di, parlando appunto di questo, cioè il problema, non affronto questo problema perché ne avete parlato voi, però era per dire come perché non esiste un limite del capitale, ecco, non incontreremo un limite, non incontreremo un limite perché il capitale riorganizzerà il nostro sistema dei bisogni per il suo uso e consumo, molto semplicemente, quindi è chiaro che questo non accadrà. Il problema è, certo può accadere alla fine del mondo questo sì, ma insomma la fine del mondo è anche la fine di un progetto di emancipazione, quindi non lo prendi in considerazione. Quindi tra l'opposizione, tra una critica primitivista e una critica invece post-umanista in cui, come dire, una critica in cui si dice no, basta bisogna tornare indietro perché il capitalismo si è spitto troppo oltre e una che invece dice no, il capitalismo non si spingerà mai oltre perché comunque tutto quello che produce va bene, è l'umano che è così. Ecco, per affrontare questa contraddizione vorrei affrontarla con Marx, anche se è una risposta esplicita in Marx, non c'è, bisogna pensare insieme a Marx e ci proviamo. Allora, io credo che la proposta che appunto vi faccio è, per cercare di capire bene e di affrontare e di dare un taglio diverso a questo problema, al problema delle crisi del capitale, bisogna parlare dell'animale, bisogna parlare degli animali e della soggettività animale. L'altra volta, nel seminario che abbiamo fatto ormai due mesi fa, quando è stato, avevo cominciato a dire delle cose, oggi dirò altre cose su questo. Allora, dobbiamo mettere in mezzo tra l'uomo e la natura una soggettività che non è umana, ma che ci appartiene, che è la soggettività animale, che ci fa da schermo, che ci fa da sfondo, che ci fa da sponda per cercare di pensare chi siamo e cercare di pensare il nostro rapporto con l'alterità, quello che dicevamo all'inizio. Ora, che gli animali non se lavassino molto bene sotto il capitalismo non ve lo sto a ricordare, perché insomma ce lo siamo detti diverse volte, questo grafico vi dice semplicemente quali sono le specie estinte dal 1800, mi sembra abbastanza inequivocabile. Oh, ne avevo preparati altri, però magari ne parliamo dopo, nel dibattito se serve, come? Sì, sì, infatti sono interamente sovrapponibili, se uno prende il riscaldamento globale, la produzione di energia, c'è questo picco clamoroso che dire che insomma è casuale che sia prodotto del capitalismo, mi sembra azzardato. Si parla di estensione di massa, stanno dei 0 e 2, però è proprio così che l'hanno. Sì, sì, ma poi adesso non so se ho trovato, perché poi cercavo l'altro giorno, questa anche interessante, la produzione di carne e la crescita della popolazione, non c'è proprio un rapporto diretto, come si vede, evidentemente la produzione di carne e la produzione industriale, nello sfruttamento degli animali, c'è qualcosa che va oltre il… ti dici 1961, è interessante? No, no. Perché? Beh, il momento del picco della carne delle società riste… Ah beh, certo, 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 certo. Il benessere degli anni 60, insomma, no? Questo è interessante, quindi quando si dice ci sono miliardi di animali, dunque se non mi ricordo male, la statistica ultima stessa erano 50 miliardi di animali macellati e 60 sono aumentati, vabbè tanto, e poi i pesci, non ne parliamo, erano tipo 3 volte di più, 3 volte di più, quindi… Perché vanno a pesco, no? Esatto, esatto, quindi non si riesce neanche a calcolarli quanti sono, no? Pensate, miliardi, centinaia di miliardi di animali ogni anno. E' certo, esatto, esatto, esatto. Quindi questa è la condizione degli animali, vabbè qua… e questo magari ne vediamo dopo perché parliamo della Cina, magari ne parliamo dopo di questa roba qua. Questa qua è una cosa, dico un esempio assurdo, però nel campo dei trasporti c'è un picco gigantesco in Cina nell'aumento del bisogno delle mette, del trasporto merci in campo alimentare. Eh, esatto, vedi, questo ne… dopo facciamo una piccola parentesi sulla Cina dopo. Questa l'avete mai vista? Sapete, vengono delle mucche e viene fatto un buco. Un buco dove si può inserire la mano per controllo della salute del bovino, visto che c'è stato il problema della mucca pazza. C'è che se mangiano questi che poi dopo stiamo male pure noi? Qual è la soluzione? Beh, gli fanno un buco sulla pancia, così possiamo direttamente andare a controllare e attenzione che questa roba qua è anche… viene anche giustificata in termini ecologici, perché l'emissione di gas degli allevamenti delle mucche contribuisce molto all'effetto serra. Quindi sapere cosa si mangiano le mucche è importante, perché può migliorare in prospettiva l'emissione delle loro puzzette. i diruttini. Questo è, no? Una risposta razionale a un problema che abbiamo, no? In quali paesi? In quali paesi? In quali paesi? Questo era, se non mi ricordo male, questo era in Svizzera, perché la sperimentazione era iniziata in Svizzera, però si fa ormai in parecchi paesi. Non è che tutte le mucche degli allevamenti intensivi, no, però è una cosa che viene fatta proprio per migliorare la… si dice anche la vita delle mucche, cioè gli fa il buco in pancia per migliorargli la vita, ovviamente, e la qualità della carne, la qualità delle emissioni del gas serra, eccetera, eccetera. E queste stanno lì col buco. Vabbè, sono interessanti. Intanto queste cose andrebbero viste. Anche qua, non mi aspetto per il futuro la catastrofe della vita animale, direi che è già in atto. Che peggio di così, no? Cioè animali che vengono cresciuti, che nascono attraverso lo stupro, lo stupro meccanico, no? Questa qui è anche probabilmente nata attraverso lo stupro meccanico. Che vengono tenute in vita esattamente il periodo che serve alla funzione della loro riduzione a merce, che vengono separati dai propri figli, che vengono torturati in tutti i modi possibili, immaginabili, insomma direi che quando si parla di miliardi, 50 miliardi, 150 miliardi, se ci metti pure i pesci, penso che aspettarsi peggio di questo mi sembra, no? Ok? Non c'è mai pezzo. Ora, il problema è che, attenzione, anche qui vi ho fatto dei numeri, ma i numeri non dicono granché. Qui è un grosso problema, perché se mostro delle cifre, riduco questo inimmaginabile dolore, questa inimmaginabile sofferenza a un dato quantitativo che per carità ognuno di noi quando sente 50 miliardi di animali macellati credo che ci abbia un attimo di gira la testa, non si riesce neanche a immaginare quanti sono 50 miliardi di animali macellati in un anno. Quindi, diciamo sì, però non da tanto. Se vediamo delle immagini tipo quella ci sconvolge lì per lì, magari ci dà anche un po' fastidio, però anche quello secondo me è qualcosa che lascia il tempo che trova, più di tanto non risolve il problema. E del cercare di capire che cos'è la sofferenza, che cos'è la catastrofe della vita animale e che relazione ha con noi, soprattutto. Cioè anche qui il problema non è quantitativo, ognuna di quelle è una vita martoriata, distrutta, spenta, di cui chiaramente si può soffrire, si può rimanere comunque sgomenti, ma il problema è che anche qui la quantità non ci dice molto. E attenzione, anche qui il capitale è indifferente alla sofferenza animale, nel senso che se gli serve la usa, se non gli serve non la usa. Il capitale è un meccanismo assolutamente indifferente a noi. Questo è un punto importante. Nel bene e nel male. Ad esempio, vi faccio questo esempio, che è la carne in vidro. È possibile produrre carne senza far soffrire gli animali? Certo che è possibile. La stanno sperimentando da diversi decenni. Si prende del materiale cellulare, lo si fa crescere, si formano dei muscoli attraverso un meccanismo esattamente come si formano i muscoli nel corpo, e si produce della carne che ovviamente adesso costa tantissimo, perché è un mezzo sperimentale. Il capitalismo ha bisogno degli elementi industriali, degli elementi intensivi? No, non ha bisogno degli elementi intensivi. Non ce n'ha bisogno. È chiaro che in questo momento, costando la vita animale è praticamente zero, perché non costa niente, è quasi interamente profitto, tranne le esternalità che produce allevarli. È chiaro che è conveniente, no? Ma si può anche arrivare a questo e quindi nell'indifferenza che ha nei nostri confronti, nella nostra vita, si potrebbe un giorno arrivare a produrre carne in quel modo. E allora ecco che tutte le cose che noi adesso diciamo sugli allevamenti intensivi, che sono ovviamente tabù, che non vengono dette, vengono ridicolizzate, ogni volta che uno parla di queste cose dice, magari che nella carne che ti mangi ci sta, lo diceva l'altra volta Giulia, c'è di dentro di tutto, insomma, magari forse anche soltanto pensando alla tua di salute, potresti dire che questo sistema di produzione non va bene. Ecco tutte queste cose improvvisamente diventerebbero invece Dio mio pubblico, perché cosa c'è di più facile per pubblicizzare questo, che dire che invece quell'altra carne ti fa male? Fate un esperimento mentale, no? Si riesce a produrre questo tipo di carne a prezzi bassissimi, no? Magari ci si riesce, non dico che ci sia, però facciamo l'esperimento. Se si riuscisse, dall'oggi al domani, tutte le cose che noi diciamo contro gli allevamenti intensivi verrebbero detti dai produttori di questa carne, ma che vi mangiate quelle schifezze? Mangiatevi questa roba qui che è controllata, senza sofferenza, paura di far soffrire gli animali. Improvvisamente diventerebbero tutti quanti sensibili alla sofferenza degli animali, no? Pensate. Il problema è che il capitale è un bastardo, non gliene frega niente, non ha valori che non siano appunto la sua autovalorizzazione. E noi ci dovremmo ovviamente a combattere con la destra reazionale, è la tradizione reazionale che dice, no, noi vogliamo gli allevamenti intensivi, ma che ci vendete questa carne prodotta in laboratorio? Non la vogliamo la carne prodotta in laboratorio, no? La carne del demonio. Salvini il giorno dopo starebbe in piazza a protestare con gli allevatori che vengono, no? A cui il capitalismo cattivo gli sta sorgliendo il lavoro, ma viva la mucca, viva il vidello sottratto alla mamma, no? Vabbè, poi c'è il problema di effetti ecologici, magari pure questo se vi interessa ne possiamo parlare di questa cosa. Allora, quindi non è tanto la sofferenza e la catastrofe degli animali nel suo elemento più sconvolgente che è appunto quello quantitativo e anche quello del vedere quello che succede, che certo questo è importante secondo me perché dà l'idea, forse dà anche uno shock per cercare di riorganizzare cognitivamente i pensieri e le sensazioni che si hanno, ma il problema grosso e quello che mi interessa è pensare appunto l'animale stesso come limite. Ora, la soggettività animale è una soggettività altra, dicevamo l'altra volta nel seminario dell'altra volta, cioè è un soggetto che mette in questione la mia concezione del soggetto e quindi la mia concezione di me stesso. È un soggetto a cui io tradizionalmente, storicamente, per millenni ho negato la caratteristica della soggettività e ho costruito la mia soggettività sulla negazione della sua. Quindi è carsica nella cultura non solo occidentale che l'autorappresentazione dell'umano passa attraverso la squalificazione e la negazione del non umano. La negazione materiale, delle pratiche di asservimento e di riduzione a cosa dell'animale, ma anche nelle pratiche culturali, nel senso che la mia autorappresentazione di umano si erge sulla piramide di cadaveri che io ho sotto di me. Allora, questa soggettività, riconoscere questa soggettività, riconoscere che l'animale è la natura che mi guarda con gli occhi, che è la natura che ha una qualche forma di pensiero e di sentire e che si relaziona a me mi mette in difficoltà. Perché finché vi dico 50 miliardi di numeri, è chiaro che uno può dire, beh sì. Se io dico 50 miliardi di sensibilità, di soggettività, individuali irripetibili, cosa che ovviamente la cultura occidentale negava, ha sempre negato, gli animali sono tutti uguali, come dire i cinesi sono tutti uguali, i neri sono tutti uguali, è lo stesso meccanismo, le differenze le vedo solo dove sono per me rilevanti. E siccome la differenza tra gli individui degli animali per me non è rilevante, chiaramente la nego. Allora io partirei paradossalmente invece da una citazione di Marx e Engels, che dice, ma sta sempre a citare Marx e Engels, però questa secondo me è molto utile, dall'ideologia tedesca. Si possono distinguere gli uomini dagli animali per la coscienza, per la religione, per tutto ciò che si vuole, ma essi cominciarono a distinguersi dagli animali allorché cominciarono a produrre i propri mezzi di sussistenza, un progresso che è condizionato dalla loro organizzazione fisica. Producendo i loro mezzi di sussistenza, gli uomini producono indirettamente la loro stessa vita materiale. La cosa che mi è sempre piaciuta di questa citazione è che implicitamente dice che l'uomo non è diverso dagli animali, l'uomo si fa diverso dagli animali, che ha dentro due cose diverse. Uno è la tradizione spiritualistica per cui l'uomo si pensa diverso dagli animali e fa in modo che gli animali non mettano in questione il suo sentirsi diverso, cioè superiore. Dall'altro il fatto che l'uomo modifica attraverso la trasformazione del suo ambiente sociale e materiale anche la sua stessa forma di vita, questo invece è una cosa sicuramente interessante, laddove si dice che non c'è un confine statico tra l'uomo e l'animale, è l'uomo che produce questo confine, che produce questa differenza, cioè che si produce in quanto uomo è diverso dagli animali, cosa che qui invece ha secondo me un elemento positivo, come dirò dopo. Allora, che cos'è questa differenza? È esattamente quello che dicevamo prima, nella cooperazione e nello sviluppo tecnologico, è questo che rende la società umana e quindi i singoli esseri umani diversi. Se questo è vero, se la storia delle civiltà è questo costante produrre dell'uomo la sua differenza rispetto all'animale, la modernità è il luogo della storia in cui l'uomo perviene a se stesso o cerca di pervenire a se stesso, cioè cerca di costruirsi una società a sua immagine e somiglianza. Perché le società premoderne l'uomo aveva il suo modello fuori di sé. Chi era? Era iscritto nella natura, era iscritto nella teologia, era iscritto da qualche altra parte. La modernità è il momento della storia in cui l'uomo pretende di scrivere se stesso e di darsi se stesso alla norma e di dire chi è, non a caso, umanesimo. La centralità dell'uomo è che l'uomo dice sono io che finalmente dico chi sono e cosa voglio e posso fare. Quindi la modernità è il momento della storia in cui c'è questo progetto strano in cui l'uomo dice finalmente mi emancipo dai limiti naturali, mi emancipo dai limiti divini e provo a dire e a fare qualcosa che mi identifica e mi dice chi sono. L'uomo può pervenire a se stesso e anche, come dirò, al proprio superamento, cioè anche al superamento dell'idea che per dire chi è l'uomo deve anche dire che è meglio di tutti gli altri. Ma in che modo? Bene, allora questo progetto è un progetto materialistico, materialistico, cioè la proposta che vi faccio è cerchiamo di pensare che una società diversa, una società che si lascia alle spalle lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, lo sfruttamento dell'uomo rispetto alla natura, nel senso che abbiamo visto, cioè di un fregarsene completamente dell'altro e di asservirlo, di ridurlo a materia per i propri scopi, sia un progetto materialistico, come ci insegnava Marx. Ma in che senso? Come va pensato questo materialismo? Beh, sicuramente perché non c'è questa dimensione spiritualistica, che l'uomo si differenzia dell'animale perché pensa di essere superiore, perché pensa di appartenere a un regno ontologico diverso, separato, ok? Spirituale, per cui noi siamo superiori perché abbiamo delle qualità intrinseche che ci pongono al di sopra degli animali. Non va in questa direzione. Ma in una direzione materialistica, naturalistica però non è neanche la dimensione primitivista di immaginare questa natura pure incontaminata e l'uomo che regredisce a questo stato originario. Quindi come la articoliamo questa dimensione materiale? In che modo una società si organizza non secondo una visione idealistica, una visione spiritualistica in cui l'uomo è superiore? In che modo l'uomo può dire di essere uguali agli animali e continuare a fare quello che ha sempre fatto, cioè la differenza che lo definisce? In che modo? Si può fare? Boh! Io ci provo, vi faccio la mia proposta. Allora, l'idealismo è un principio, Hegel lo definisce bene la visione del diritto, di appropriazione e annullamento dell'altro. L'idealismo dice che esiste l'identità pura incontaminata e l'altro è semplicemente qualcosa che è apparente, non c'è, è solo la sponda del mio essere uguale a me stesso. Questo è l'idealismo, la concezione idealistica. Nei lineamenti di filosofia del diritto a un certo punto Hegel parla dell'assoluto diritto di appropriazione dell'uomo su ogni cosa. e dice che il fatto che l'uomo abbia l'assoluto diritto di appropriazione su ogni cosa è la dimostrazione filosofica, pratica della verità dell'idealismo. Vabbè, non ve lo leggo perché è complicato, però a un certo punto quando lui dice a un certo punto lui dice, no perché ci stanno queste filosofie, c'è il realismo che dice che esistono le cose fuori di noi, che sono diverse da noi, c'è il cantismo, c'è il cante che dice che c'è un limite della conoscenza, queste posizioni filosofiche sono battute in breccia dal fatto che l'uomo si appropria di ciò che è fuori di lui. Le fa proprie, se le assimila, le annulla nella loro differenza da lui. Questa, l'appropriazione dell'uomo su ogni cosa, è la dimostrazione della verità dell'idealismo. E quindi, diamo retta al buon Hegel che di idealismo se ne intendeva, vuol dire che il materialismo è il contrario. È la negazione del diritto di appropriazione dell'uomo su ogni cosa. è il fatto che non esiste, non esiste la possibilità di negare, di annullare l'alterità rispetto a me, che anzi ci devo fare i conti con questo altro rispetto a me, che è irriducibile a me. Infatti, il materialismo volgare, quello che dice che l'uomo deve continuare a produrre e deve ampliare il suo potere e deve appropriarsi di tutto, è una forma di idealismo pratico, secondo me. C'ha ragione Hegel. E il materialismo che mi piacerebbe a me è un materialismo diverso, che io chiamo materialismo solidale, cioè un materialismo che ha dentro di sé, invece, l'idea di una solidarietà con l'altro in tutte le sue forme. L'ultima cosa filosofica, e poi dopo vado più leggero, Hegel definisce l'identità, cioè il cuore dell'italismo, l'identità dell'identità e della non identità. Cioè vuol dire che ciò che è non identico, in realtà è identico. Che ciò che è altro da me, è solo apparentemente altro da me. E per questo me ne approprio, lo faccio mio. E Adorno diceva, ma no, caro Hegel, è il contrario. Noi dobbiamo pensare, e una filosofia, un pensiero della libertà, un pensiero dell'emancipazione, deve pensare che l'identico e il non identico sono non identici. Cioè, che ciò che si autodefinisce e, come dire, si fonda su se stesso, in realtà lo fa soltanto sullo sfondo di un altro che non può mai cancellare, che c'è sempre, persiste. E anzi, funziona questo meccanismo di autoposizione solo perché tu fai finta che quest'altro non c'è. Il rovesciamento, ok? Bene, questa identità negata, ne stiamo parlando, è proprio, anzitutto, l'identità dell'animale. L'animale che per noi non ha una sua corporeità, non ha una sua socialità, non ha una sua cultura, non ha una sua storia. E infatti noi, etologicamente, per secoli siamo andati avanti a dire che gli animali o sono delle macchine, oppure sono degli organismi che hanno degli istinti, oppure, vabbè, sì, forse hanno anche dei processi mentali, però non pensano, vabbè, sì, forse pensano, però non hanno una cultura, va bene, forse elaborano la cultura, però non se la tramandano, salvo che poi ogni volta gli etologi scoprivano che non era vero. Quindi, come dice Derrida, questa differenza tra l'uomo e l'animale, noi la spostavamo sempre, e dice, ma eh sì, facciamo così, facciamo che invece non ce n'è una sola, facciamo che ce ne sono infinite, che forse è meglio. Cerchiamo di pensare che la vita si organizza come una esplosione di prospettive, un'esplosione di differenze, piuttosto che pensare che c'è un baluardo tra noi e tutte le altre specie che ci minaccia nella nostra autonomia, che non è così, non funziona così. Ok? Quindi, cominciamo a articolare questa identità, questa differenza tra noi e l'animale, è anzitutto recuperando all'animale quello che gli spetta, la dimensione somatica, la dimensione del suo corpo vivente, no? Live e Körper, tu lo sai! Del suo corpo vivente, la sua socialità, gli animali che noi distruggiamo nelle norme macchinari industriali sono animali a cui, per esempio, è completamente sottratta la dimensione della socialità, tra la mucca e il vidello, tra i maiali fra di loro, no? Che hanno addirittura una loro cultura, una loro storia. Perché è così? Perché è così? Ormai lo sappiamo, certo, non ci fa molto comodo pensarlo, perché ovviamente diventa un problema dire che noi stiamo commettendo una specie, perché diventa una specie di genocidio a quel punto, perché se pensi che c'è addirittura una cultura animale, no? Una storia delle società animali che tu annienti, beh, insomma, cominci un po' a farti dei problemi. Ma qui c'è la cosa interessante. Se questa identità negata è quella che dobbiamo invece andare a riconoscere, restituiamo l'identità all'animale riconoscendo che è anche la nostra, ok? Dall'altro c'è però la differenza. Cos'è la differenza, allora? Come articoliamo la differenza tra noi e le altre specie, visto che in qualche modo la dobbiamo pensare questa differenza? Allora io dico che paradossalmente la differenza tra noi e le altre specie animali è ciò che sorge dal riconoscimento dell'identità. Noi cominceremo, lo so spiego, l'ho lanciata lì così tipo, ta, trailer. Noi porremo e riconosceremo la differenza tra noi e gli animali tanto più quanto riconosceremo la nostra identità nei loro confronti. Questo è il paradosso dialettico e infatti l'ultima parte, quando siete stanchi e quindi non potete rispondere e state lì tramortiti, vi martello con la dialettica. Allora, ritorniamo al nostro buon Marx. La modernità, figa la modernità, ci piace la modernità perché un'espressione che torna spesso negli scritti di Marx e Engels è la rottura del condone umbilicale con la natura, col mito, con la ciclicità, con la stasi delle società tradizionali, ok? La modernità rompe questo cordone umbilicale, quindi anche questo elemento protettivo, questo elemento di, in qualche modo, di staticità, cioè di Beanza, che era che diceva Beanza? Lacan. Come si fa a intendere questa rottura della modernità che abbiamo detto ci piace? Perché l'alternativa è dire no, torniamo alla premoderna che è molto meglio. Come si fa a intenderla in un modo diverso, cioè in un modo non spiritualistico? Perché, appunto, non stiamo dicendo che c'è un elemento per cui l'uomo è superiore alla natura da un punto di vista spirituale, astratto, no? Come si fa a pensarlo? Bene, allora, questa rottura che la modernità inaugura credo che andrebbe pensata non come un dispiegamento di potenza, non come una decisione sovrana, non come una lotta di forze cieche e materiali, nel senso del materialismo volgare. E quindi come? Non è un dispiegamento di potenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che riconoscere la natura come soggetto, riconoscere l'animale come punto di mediazione tra noi e la natura, come soggettività che fa problema, significa cominciare ad esercitare questo limite che ci costituisce, pensare quindi alla natura come soggetto, tra l'altro un soggetto anche sociale, abbiamo detto, che ha anche una sua dimensione per noi impensabile, ma per quanto impensabile è anche culturale e storica, paradossalmente, relazionarsi con questa natura, esercitare con i confronti delle società animali un rapporto che sia di ascolto, di dialogo e di intreccio con l'altro, cose che noi, appunto, nella dimensione del suprematismo spiritualista dell'occidente ci neghiamo, perché ovviamente non ascoltiamo chi non ha parola, chi non ha logos, perché ovviamente non dialoghiamo con chi non ha logos e con chi non sappiamo neanche se ci risponde, come dice Derrida. E se l'animale rispondesse? No. E ovviamente meno che mai ci intrecciamo, nel senso che abbiamo delle relazioni, pensiamo di avere, abbiamo costruito una grandissima, meravigliosa, fantastica civiltà urbana che è il luogo del non incontro con l'animale, dove l'animale entra soltanto se preventivamente accompagnato, possibilmente si raccoglie anche la sua cacca, altrimenti non ci entra. Oppure, nei residui ottocenteschi, il circo, queste cose, i propri eventi residui del colonialismo più biego. Poi, esatto, che però pure quelli, quella era la forma di resistenza, però pure lì che il rapporto ci abbiamo, ci fanno molto problema e possibilmente li scacciamo via, no? Si mangiano tra loro i viccioni che vengono mangiati dai gabbiani, fantastico. Bene, allora, praticare questo limite, esercitare questo limite nei confronti dell'animale, quindi capire, cominciare a capire che cosa è questa relazione, che noi non vogliamo, non abbiamo mai voluto, abbiamo sempre negato, è qualcosa che appunto va in direzione diversa del dispiegamento di una potenza, c'è qualcosa con cui noi soverchiamo chi sta al di là di questo limite, no? È invece l'idea di una pratica responsabile del rapporto con l'alterità, che ovviamente presuppone un'organizzazione sociale totalmente diversa, ma stiamo parlando di una società che non è il capitalismo, evidentemente. Stiamo cercando di immaginare una cosa che sta oltre quell'orizzonte, anche se lo possiamo soltanto negativamente provare a descrivere. Non è una decisione sovrana superare questo limite tra noi e l'altro. Mi azzardo a parlare di una paradossale democrazia esterna. Una società liberata da una società fuori del capitale è una società democratica, cioè una società in cui non esiste sfruttamento, ma la società si auto-organizza e quindi, abbiamo detto, secondo principi libertari e democratici, questo è chiaro. All'interno e all'esterno? Come si relaziona la specie umana con le altre specie animali? Anche qui, è chiaro che non possiamo pensare di dialogare e di ascoltare una voce che non parla secondo il logos occidentale o il logos umano. È chiaro che non è questo, anche se possiamo insegnare alle scimmie a parlare con il linguaggio dei segni, probabilmente anche ad altri animali a comunicare secondo le nostre ma non è tanto questo il punto. Il punto è che nel decidere autonomamente che cosa noi facciamo di noi e della nostra società, dobbiamo essere in grado anche di capire fino a che punto le altre società animali sono d'accordo con quello che noi decidiamo di fare. Che è un paradosso, ma è un paradosso che va praticato. Cioè bisogna pensare che nel momento in cui la società umana si riorganizza, dice ok, ma faccio questa cosa? E qual è l'effetto che ho sulle altre società animali? Quindi si tratta di provare a superare questa barriera di specie, questa barriera spiritualista, ma non nella direzione di un'oppressione, ma come una ridefinizione del soggetto che appunto, il soggetto umano, che cos'è? Lo puoi scoprire solo nella relazione con un altro soggetto che non è umano, evidentemente. Questo confine lo devi in qualche modo cercare di varcare, di tenerlo sempre lì come una membrana attraversabile, che non è appunto un muro, no? E che è anche elastica e che ti permette di capire nel movimento fino a dove ti puoi spingere. E quindi qual è il confine del tuo essere con gli altri e non essere sopra gli altri o contro gli altri. Questo sarebbe, in maniera un po' astratta, ma insomma… Ciò che si è, è ciò che si conè. Cioè ciò che è, ciò che noi siamo, è ciò che noi siamo con gli altri. E ora gli altri massimamente, in questo caso, sono gli altri non umani. E questo è il proprio problema. Quindi una società che già si deve organizzare nella miriade delle sue differenze interne tra gli esseri umani, nel rispetto delle differenze interne tra gli esseri umani, in maniera non gerarchica e non oppressiva, che comincia a porsi questo problema assurdo del conessere con altre soggettività, che ovviamente si muovono su un piano diverso dal nostro. Che noi non conosciamo, perché fino adesso abbiamo sempre occluso il rapporto con questa soggettività, perché per definizione non ce l'avevano, ok? Una volta che invece ti poni il problema, questo rapporto lo devi praticare, perché è soltanto nel rapporto con l'altro che tu conosci te stesso e i confini del tuo essere e del tuo poter essere. Il poter essere non è l'esplicitazione di una potenza, ma di un campo di relazioni, ok? Quindi l'idea di un materialismo solidale è un materialismo che prova a relazionarsi in maniera non oppressiva e non dominatrice con le altre specie. E chiudo con l'ultima parte. non è una forza, non è una lotta di forze cieche. Il materialismo volgare, quello che pensa appunto che l'essere umano sia un pezzo di materia che si organizza socialmente in maniera meccanica e determinata e che quindi l'unica cosa che può fare è opprimere gli altri pezzi di materia che sono gli animali, questa concezione volgare del materialismo è una forma nichilistica in cui appunto non esiste un senso dell'esistenza chiaramente, perché il senso dell'esistenza è semplicemente lo scontro di forze fisiche. Non ci piace che il senso dell'esistenza sia scritto nella natura, perché ci sa molto di teologia. Ci piace però che il senso dell'esistenza ce lo scriviamo noi, che nella consapevolezza della nostra mortalità e del nostro destino su questa terra, e speriamo non su altre ma anche su altre, che non esiste un senso che ci viene dall'esterno, ci piace pensare che il senso dell'esistenza ce lo costruiamo noi. Noi, a questo punto però, non è più un noi, non è più la decisione sovrana di Nietzsche, no? Quindi io do il senso alla mia vita perché mi pongo al di sopra degli altri, no? È il contrario, io do un senso alla mia vita perché la costruisco insieme agli altri. Questo sarebbe il senso dell'esistenza e ciò che io faccio di me stesso con gli altri. Questo sarebbe. Ora, l'uomo è ciò che fa di sé e dell'altro. Ed ecco l'enigma che vi poniamo prima. La differenza dell'uomo dall'animale sta nel fatto di riconoscere la sua identità con gli altri animali. Perché? Perché tanto più l'uomo si sa essere natura, tanto più si danza al di sopra di essa. Perché istituisce dei rapporti sociali che non sono mai esistiti in natura e che solo noi stiamo inaugurando. Addirittura l'idea di un rispetto inaugurale per tutte le specie. Esiste in natura l'empatia. Esiste il fatto che un membro di una specie possa provare empatia e preoccuparsi del destino di un membro di un'altra specie. Per evidenti limiti strutturali che non sono un'accusa nei confronti della vita animale, solo l'uomo si pone il problema dal punto di vista universale. Cioè che l'uomo può porsi il problema della sofferenza di specie con cui neanche convive o che manco sa che esistono. Capite? Quindi tanto più l'uomo si sa natura e quindi sa la sua identità rispetto alla non natura, tanto più proprio per fare questo e quindi conoscendo e sentendo questo legame con la natura stessa che lui stesso è, si erge al di sopra della natura. È paradosso, ma è così. Tanto più si pensa uguale, quindi tanto più si fa diverso. Perché non è un problema di quello che noi pensiamo di noi stessi, ma di quello che noi facciamo, costruiamo socialmente e storicamente nella prassi politica del costruire una società non gerarchica e non violenta non solo dell'umano ma anche del non umano. Grazie. Applausi. Grazie.